Questa è la storia di Giorgio Napolitano, una figura di spicco nella politica italiana. Dai suoi giorni giovanili come attivista politico, passando per il suo ruolo come presidente della Repubblica Italiana, fino a diventare una voce influente anche dopo la fine del suo mandato. Questa narrazione offre un'immersione nella vita e nelle sfide affrontate da Napolitano. Giorgio Napolitano è stato il primo presidente italiano ad essere eletto per due mandati consecutivi, una figura rispettata per la sua lunga carriera politica e le sue decisioni cruciali durante momenti critici nella storia italiana. Tuttavia ha anche affrontato critiche e controversie che includevano le sue decisioni riguardo a leggi, controverse e il suo coinvolgimento in conflitti legali di risonanza nazionale. Oltre al suo ruolo istituzionale, Napolitano è stato una figura chiave nella politica italiana, spesso al centro di dibattiti politici e dibattiti pubblici. Le sue azioni e decisioni hanno suscitato discussioni e opinioni contrastanti, contribuendo a definire il suo legato nella politica italiana. In questo video esploreremo la vita, la carriera e le controversie che hanno circondato Giorgio Napolitano, una figura complessa e influente nella storia politica italiana. Prima di cominciare iscrivetevi al canale e attivate la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati, anche un like per noi è molto importante. Seguitemi anche sui miei social e sugli altri miei canali, troverete tutti i link in descrizione, grazie mille. Giorgio Napolitano ha visto la luce a Napoli, terra di profonde tradizioni e passioni, dove il suo padre Giovanni, un avvocato dal pensiero liberale e un poeta in spirito, si è incrociato con la sua madre Carolina Bobbio, discendente di nobili napoletani con radici piemontesi. Nel remoto passato, negli anni tra il 1938 e il 1941, Giorgio inizia il suo percorso educativo presso il liceo classico Umberto I di Napoli. Qui, tra le aule polverose e i corridoi vivaci, frequenta la quarta e la quinta ginnasio prima di affrontare la sfida della seconda liceo. Ma quegli anni sono segnati dalla guerra, un'ombra che sconvolge ogni progetto. Nel dicembre seguente, la sua famiglia si trasferisce a Padova, dove Giorgio consegue il diploma presso il prestigioso liceo classico Tito Livio. Nel 1942, con un futuro ancora incerto, si iscrive alla facoltà di giurisprudenza presso l'Università Federico II di Napoli. In quegli anni tumultuosi, Giorgio si unisce al gruppo universitario fascista di Napoli. Attraverso il settimanale non omaggio, trova una voce nella critica teatrale. Questo periodo lo introduce a una cerchia di amici destinati a diventare la spina dorsale della dirigenza comunista napoletana, tra cui Massimo Caprara. In questo ambiente pulsante di vitalità intellettuale, Giorgio si sente a suo agio. Il giovane napolitano, innamorato della letteratura e del teatro, un interesse coltivato tra i banchi del liceo classico Umberto I di Napoli con amici come Francesco Rosi, Giuseppe Patroni Griffi, Antonio Ghirelli, Raffaele La Capria e Luigi Compagnone, si lancia anche nell'arte della recitazione, calcando il palcoscenico con piccoli ruoli nella compagnia del gufa al Teatro degli Illusi, situato presso Palazzo Nobile. Nel 1944, Giorgio entra in contatto con il gruppo di comunisti napoletani, tra cui Mario Palermo e Italo Tunisini come Maurizio Valenzi, che stanno preparando l'arrivo di Palmiro Togliatti a Napoli. L'anno successivo, Giorgio aderisce al Partito Comunista Italiano, diventando il segretario federale a Napoli e Caserta. Nel 1947, si laurea in giurisprudenza con una tesi di economia politica intitolata Il mancato sviluppo industriale del mezzogiorno dopo l'unità e la legge speciale per Napoli del 1904. Nel 1953, Giorgio viene eletto deputato, una carriera politica che lo porterà a essere riconfermato in numerose occasioni, ad eccezione della Quarto Leggislatura, nella circoscrizione di Napoli, fino al 1900. 1996. Durante questo periodo, assume la responsabilità della Commissione Meridionale del Comitato Centrale del PCI, grazie all'appoggio di Togliatti, che mirava a creare una dirigenza centrale più diversificata e giovane. Tuttavia, il 1956 è un anno cruciale, segnato dalla repressione sovietica dei moti ungheresi, che il PCI condanna come controrivoluzionari. Nel corso dell'VIII Congresso del PCI a Roma, Giorgio Napolitano, in sintonia con Togliatti, elogia l'intervento sovietico, suscitando polemiche e dibattiti. Il percorso politico di Giorgio Napolitano si evolve nel corso degli anni, seguendo la linea di Giorgio Amendola e attraverso profonde revisioni personali e politiche. La sua storia politica non rimane immutata, ma si adatta alle evoluzioni della realtà internazionale e nazionale. Negli anni che seguirono, tra il 1960 e il 1962, Giorgio Napolitano assunse la delicata responsabilità della sezione lavoro di massa. Fu un periodo di grande impegno e scelte difficili mentre cercava di portare avanti la causa del partito. Successivamente, dal 1963 al 1966, il destino lo condusse a un ruolo ancora più prominente, quello di segretario della Federazione Comunista di Napoli. In questo periodo, l'Italia era scossa da profondi cambiamenti politici e sociali. La morte di Palmiro Togliatti nel 1964 generò un confronto interno al PCI. Napolitano emerse come uno dei leader moderati di spicco, parte di quella fazione del partito più incline a stabilire relazioni con il partito socialista italiano, mentre altri erano ancorati all'onda di ribellione che precedette il 68. Dopo aver fatto il suo ingresso nella direzione nazionale del partito a partire dal decimo congresso, tra il 1966 e il 1969, divenne coordinatore dell'ufficio di segreteria e dell'ufficio politico del PCI. Nel 1966 ricoprì informalmente il ruolo di vicesegretario insieme a Luigi Longo prima che due anni dopo l'incarico passasse a Enrico Berlinguer. Tra il 1969 e il 1975 Napolitano si dedicò principalmente ai problemi culturali del paese, assumendo la responsabilità della politica culturale del partito. Il suo libro intervista sul PCI con Enrico Obsbaum ottenne un notevole successo, con traduzioni in oltre dieci paesi. Durante il periodo della solidarietà nazionale, 1976-79, ricoprì il ruolo di portavoce del partito nei rapporti con il governo Andreotti, concentrandosi su temi economici e sindacali. Negli anni 70, Giorgio Napolitano ampliò la sua influenza a livello internazionale, tenendo conferenze in istituti di politica internazionale nel Regno Unito e in Germania, contribuendo al confronto con la socialdemocrazia europea e affrontando la politica di Ostpolitik di Willy Brandt. Sorprendentemente per un politico italiano dell'epoca, si espresse nelle università statunitensi, diventando nel 1978 il primo dirigente del PCI a ottenere un visto per gli Stati Uniti d'America, dove condusse importanti conferenze ad Aspen, Colorado e all'Università di Harvard. Nel febbraio 1974, in un momento delicato della storia, Napolitano scrisse una nota riservata del PCI che criticava Alexander Solzhenitsyn, l'autore di Ercipera Gurgurg. Nella nota lo accusava di danneggiare lo Stato sovietico e la distensione internazionale, ma allo stesso tempo invitava il PCUS a tollerarlo, sostenendo che la repressione avrebbe favorito i nemici del socialismo sovietico. Tuttavia, quando Solzhenitsyn fu espulso dall'URSS, Napolitano scrisse articoli sull'unità e rinascita, in cui respinse ogni dialogo con il dissidente deluso dal socialismo reale e mantenne una posizione ambigua sulla decisione del Cremlino di esiliarlo. Dal 1976 al 1979, Giorgio Napolitano assunse la responsabilità della politica economica del partito, continuando il suo lungo percorso di servizio al PCI e alla politica italiana. Giorgio Napolitano si rivelò come uno dei punti di riferimento storici della corrente di destra del PCI, un'ala che vide la luce verso la fine degli anni Sessanta e si ispirava ai valori del socialismo democratico, seguendo l'eredità di Giorgio Amendola. In quegli anni di dibattiti interni al partito, la fazione di Napolitano veniva talvolta etichettata dai rivali come migliorista, un termine che aveva una certa connotazione dispregiativa. Questo nome faceva riferimento a un'azione politica mirata a migliorare le condizioni di vita della classe lavoratrice senza però cercare una rivoluzione strutturale del sistema capitalista. Da Giorgio Amendola, Napolitano ereditò l'approccio riformista, tipico dell'ala moderata del PCI, e continuò la lotta per promuovere un PCI sempre più europeista. Promosse persino la candidatura di Altiero Spinelli al Parlamento europeo. Tuttavia Napolitano si distanziò ulteriormente dall'Unione Sovietica quando condannò l'invasione dell'Afghanistan, una mossa che Amendola aveva giustificato. La sua critica all'URSS venne accolta favorevolmente dalla maggioranza del partito. Un altro protagonista con cui Napolitano condivise il palcoscenico politico del PCI fu Enrico Berlinguer. Napolitano lo considerava parte del percorso che avrebbe portato al superamento delle contraddizioni di fondo tra il PCI nella sua evoluzione e il comunismo come ideologia e come sistema. Si iniziarono insieme nell'esperienza della solidarietà nazionale. Col tempo Napolitano criticò le scelte di arroccamento di Berlinguer sulle sue posizioni. Divenne uno dei principali rappresentanti dell'opposizione interna a Berlinguer, prendendo posizione pubblicamente sull'unità contro l'approccio di Berlinguer alla questione morale e la riaffermazione orgogliosa della nostra diversità. In un articolo famoso pubblicato durante quell'estate, Napolitano metteva in guardia Berlinguer sui pericoli del settarismo e dell'isolamento parlamentare, una strada che, secondo lui, avrebbe portato il PCI a perdersi nei familiari sentieri della lotta di classe. Napolitano si sforzò anche di mantenere aperta la possibilità di un dialogo e di una possibile convergenza con il Partito Socialista Italiano, PSI. Continuò a coltivare legami con il socialismo europeo e italiano, anche durante gli anni di duro scontro politico tra comunisti e socialisti, che raggiunse il culmine nel 1985 con il referendum sulla scala mobile. Nel 1985, Napolitano affermò che il riformismo europeo rappresentava il futuro del PCI. Dal 1986 diresse la Commissione per la politica estera e le relazioni internazionali all'interno del partito. In campo internazionale, la sua linea era quella di una piena e leale solidarietà agli Stati Uniti d'America e alla Nato, una posizione che gli valse il plauso di personalità come Enric Kissinger, che lo definì il suo comunista preferito. Dal 1981 al 1986, durante l'ottavo e la nono legislatura, Napolitano fu presidente del gruppo dei deputati del PCI alla Camera dei Deputati. Dal 1989 al 1992 ricoprì la carica di parlamentare europeo. Alla morte di Enrico Berlinguer, Napolitano fu considerato uno dei possibili successori alla segreteria del partito, ma fu superato da Alessandro Natta. Nel luglio del 1989, Napolitano divenne ministro degli esteri nel governo ombra del PCI, ma si dimise poco dopo il congresso di Rimini, in cui si dichiarò a favore della trasformazione del partito in partito democratico. Della sinistra. In un'intervista del marzo 1992, ribadì l'antica convinzione che il PCI avesse ritardato la sua trasformazione in un partito socialista democratico di stampo europeo. Nel frattempo, nel 1991, in un periodo di tensione legato alla guerra del Golfo, Napolitano compì un viaggio storico in Israele, portando le posizioni del PCI verso una maggiore attenzione alle istanze della comunità. Ebraica. La sua vita politica era stata una lunga e affascinante serie di scontri, sfide e trasformazioni, sempre alla ricerca di un percorso che avrebbe portato il PCI verso nuovi orizzonti. Nel 1992, Giorgio Napolitano raggiunse un nuovo apice nella sua carriera politica quando fu eletto presidente della Camera dei Deputati, subentrando a Oscar Luigi Scalfaro, che era diventato presidente della Repubblica. Italiana. Tuttavia, questa fu una legislatura turbolenta, segnata da uno dei momenti più oscuri della politica italiana, noto come Tangentopoli, in cui vennero esposti scandali di corruzione e tangenti che coinvolsero molti politici. La sua presidenza divenne uno dei fronti principali nel delicato rapporto tra magistratura e politica durante quel periodo. Ci sono due episodi significativi che illustrano come Napolitano sia riuscito a guadagnarsi il sostegno dell'opinione pubblica, che in quel momento era particolarmente diffidente nei confronti delle autorità pubbliche. Il primo episodio avvenne il 2 febbraio 1993, quando un ufficiale della Guardia di Finanza si presentò all'ingresso posteriore di Palazzo Montecitorio con un ordine di esibizione di atti. Questo ordine riguardava gli originali dei bilanci dei partiti politici, che dovevano essere verificati da un magistrato per assicurarsi che le contribuzioni a politici coinvolti in inchieste fossero state dichiarate correttamente secondo la legge sul finanziamento pubblico ai partiti. Il segretario generale della Camera, su istruzioni del presidente Napolitano, oppose l'immunità di sede, sostenendo che la forza pubblica non poteva accedere senza autorizzazione del presidente delle Camere. Questa mossa ricevette il sostegno di tutti i principali partiti politici e degli organi di stampa, dimostrando che Napolitano aveva ottenuto la fiducia dell'opinione pubblica. Il secondo episodio avvenne subito dopo la seduta del 29 aprile 1993, quando alcune richieste di autorizzazione a procedere contro Bettino Craxi furono respinte dalla Camera a voto segreto. Il presidente Napolitano convocò il 6 maggio la Giunta per il regolamento e stabilì che in futuro le deliberazioni della Camera sulle autorizzazioni a procedere dovessero essere votate in maniera palese, mantenendo il voto segreto solo per decisioni che riguardassero arresti, perquisizioni o altre privazioni della libertà personale. Questa innovazione nella prassi parlamentare evitò che le proposte di autorizzazione fossero respinte segretamente, in quello che era stato soprannominato il Parlamento degli Inquisiti. Durante la gestione del lato politico del caso Tangentopoli, Napolitano si distanziò da Bettino Craxi e scelse di non supportare le lamentele di quest'ultimo contro il presidente della Giunta delle autorizzazioni della Camera. Questo comportò una rottura tra i due leader. Nel processo Cusani Craxi affermò che Napolitano, ex ministro degli esteri del PCI, avrebbe dovuto essere a conoscenza dei traffici illeciti che coinvolgevano politici comunisti e paesi dell'est europeo. Nel 1994, dopo il suo mandato alla Camera, Napolitano tornò nei banchi parlamentari e fu incaricato dal PDS di pronunciare la dichiarazione di voto sulla fiducia al governo Berlusconi I. In quell'occasione, Silvio Berlusconi lo elogiò per il suo auspicio di una linea di confronto non distruttivo tra maggioranza e opposizione. Questo segnò l'inizio di una relazione politica, che durò per oltre un decennio, fino alla crisi istituzionale sul caso Inglaro nel 2009. In seguito, Romano Prodi lo scelse come ministro dell'interno del suo governo nel 1996. In questa veste, insieme a Livia Turco, propose la legge turco-napolitano che istituì i centri di permanenza temporanea per gli immigrati clandestini. Tuttavia, durante il suo mandato come ministro dell'interno, fu oggetto di critiche per non aver esercitato una sorveglianza adeguata su Licio Gelli, il capo della loggia massonica P2, che era fuggito all'estero nel 1998. Ciò portò a richieste di dimissioni, ma una mozione di sfiducia nei suoi confronti fuorespinta dal Parlamento. Dopo la caduta del governo Prodi, Napolitano tornò al Parlamento europeo come eurodeputato tra il 1999 e il 2004, rappresentando i democratici di sinistra. Durante questo periodo, ricoprì la carica di presidente della Commissione Affari Costituzionali, una delle posizioni più influenti all'interno del Parlamento europeo. Nel settembre del 2005, fu nominato senatore a vita dal presidente della Repubblica Carlo Azzeglio Ciampi, insieme a Sergio Pininfarina, continuando così a contribuire alla politica italiana anche a livello nazionale. Il 10 maggio 2006, alla quarta votazione, Giorgio Napolitano è stato eletto come l'undicesimo presidente della Repubblica Italiana. Questa elezione è stata storica per diversi motivi. È stato il primo presidente proveniente dal Partito Comunista Italiano, PCI, a raggiungere questa carica, segnando una svolta significativa nella politica italiana. Inoltre, è stato il primo presidente proveniente da un gruppo parlamentare, nel suo caso Lulivo, dopo la caduta della Prima Repubblica. Il suo aggiuramento ufficiale è avvenuto il 15 maggio 2006, a seguito delle dimissioni anticipate di Carlo Azzaglio Ciampi, il suo predecessore. Tra i suoi primi atti come presidente, Napolitano ha concesso la grazia a Ovidio Bonpressi, in linea con le decisioni prese da Ciampi. Il 9 luglio dello stesso anno, è stato presente all'Olimpia Stadion di Berlino durante la finale del campionato mondiale di calcio, dove l'Italia ha vinto il suo quarto titolo mondiale. Questo onore era stato concesso precedentemente solo a Sandro Pertini durante la finale del 1982. Nel suo ruolo di presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, Napolitano ha intrapreso diverse iniziative volte a sostenere l'ordine giudiziario. Ad esempio, ha chiesto informazioni al CSM riguardo al fascicolo personale di Henry John Woodcock, il pubblico ministero che stava indagando su Vittorio Emanuele di Savoia. Inoltre ha auspicato la risoluzione della guerra tra le procure tra Salerno e Catanzaro riguardo alle indagini sulla vocazione delle inchieste del PM Luigi de Magistris. Nel 2008, durante le polemiche sulla presenza di Israele alla Fiera Internazionale del Libro di Torino, Napolitano è stato criticato da alcune parti, tra cui lo scrittore svizzero Arek Raman, per aver dato una valenza politica all'invito a Israele. Nel rispondere a queste critiche, il Quirinale ha emesso una nota ufficiale. Il 14 novembre 2009, Napolitano ha ricevuto una laurea honoris causa in politiche e istituzioni dell'Europa dall'Università degli Studi di Napoli l'Orientale. Nel 2010, ha dato avvio alle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia. Nel settembre 2010, ha ricevuto la cittadinanza onoraria di Roma Capitale. Nel gennaio 2011, come parte delle celebrazioni per il 150enario dell'Unità Nazionale, ha visitato Reggio Emilia per commemorare l'adozione del Tricolore e Forlì per ricordare il patriota mazziniano Aurelio Saffi. Il 17 marzo 2012, al Quirinale, Napolitano ha partecipato a un incontro dal titolo bilancio e significato delle celebrazioni per il 150esimo anniversario dell'Unità d'Italia e ha premiato 10 città rappresentative del paese per il loro contributo storico al risorgimento e alle celebrazioni stesse. Durante una visita ufficiale nel Regno Unito il 29 giugno, ha ricevuto un dottorato honoris causa in diritto dall'Università di Oxford. Nel suo ruolo di capo di Stato, Napolitano ha anche invitato al Quirinale i membri della Nazionale di Calcio Italiana, elogiandoli per i loro successi e per aver superato le sfide che avevano affrontato. La scadenza naturale del suo primo mandato avrebbe dovuto essere il 15 maggio 2013, ma è stata anticipata al 22 aprile dello stesso anno con il giuramento del suo secondo mandato. Dal 21 febbraio 2007, Napolitano ha affrontato la prima crisi di governo durante la sua presidenza, causata dalle dimissioni del premier Romano Prodi a seguito del voto contrario del Senato alla relazione sulla politica estera del suo governo. Napolitano ha gestito la situazione rinviando il governo alle Camere per ottenere la fiducia. Il 24 gennaio 2008 ha ricevuto nuovamente le dimissioni di Prodi dopo il mancato voto di fiducia al governo in Senato, che è stato causato dall'abbandono della maggioranza da parte dell'Udeur di Clemente Mastella e dalle defezioni. Didini, Bordon, Rossi e Turigliatto. Napolitano ha intrapreso consultazioni con le forze politiche per risolvere la crisi di governo e ha affidato un mandato esplorativo al presidente del Senato Franco Marini per cercare un consenso sulle riforme e sulla formazione di un nuovo governo. Tuttavia, questo tentativo è fallito e il 4 febbraio Napolitano ha firmato il decreto di scioglimento delle Camere, chiudendo la quindicesimo legislatura. L'8 novembre 2011, in un momento di crisi politica e finanziaria, Napolitano ha concordato con Silvio Berlosconi le dimissioni del suo governo non appena fosse stata approvata la legge di bilancio. Il giorno successivo Napolitano ha nominato Mario Monti senatore a vita, indicando chiaramente che avrebbe incaricato Monti di formare un nuovo governo. Questo è stato un momento significativo nella politica italiana, con Napolitano che è stato soprannominato Re Giorgio per il suo ruolo di difensore delle istituzioni democratiche italiane e per la sua influenza nel passaggio dal governo di Berlusconi a quello di Monti. Durante le elezioni politiche del 2013, Napolitano ha svolto un ruolo chiave nella formazione del nuovo governo. Ha affidato a Pierluigi Bersani il compito di verificare la possibilità di formare un governo con un sostegno parlamentare solido, ma questo tentativo si è concluso senza successo. Il 20 aprile 2013, in un momento di stallo politico a seguito delle elezioni, il nuovo Parlamento si è rivolto a Giorgio Napolitano chiedendogli se fosse disponibile a essere rieletto come Presidente della Repubblica. La sua disponibilità è stata accolta e alla sesta votazione è stato rieletto alla carica con 738 voti su 997, diventando così il primo Presidente nella storia della Repubblica italiana essere eletto per un secondo mandato. Per completare questa procedura, il 22 aprile Napolitano ha firmato le dimissioni anticipate dal suo primo settennato inaugurato il 15 maggio 2006. A seguito di ciò, lo stendardo presidenziale sul palazzo del Quirinale è stato temporaneamente ammainato. Alle 17 dello stesso giorno, ha prestato giuramento come Presidente rieletto, pronunciando il suo discorso al Parlamento in seduta comune. Questa cerimonia di insediamento è stata più sobria e breve rispetto a quella precedente. Per gli spostamenti non è stata utilizzata la solita lancia Flaminia presidenziale, ma una tema, e il Presidente è stato scortato solo da quattro carabinieri i motociclisti. Poiché era una rielezione, non c'è stato un passaggio di consegna al Quirinale. Nelle settimane successive, in una videointervista a Eugenio Scalfari, Napolitano ha dichiarato che si è sentito quasi costretto ad accettare la candidatura per un altro mandato, anche se era profondamente convinto di dover lasciare. Ha spiegato che il Paese aveva vissuto un momento difficile e che ha accettato la rielezione per senso delle istituzioni e per garantire la continuità istituzionale. Il 23 aprile ha aperto le consultazioni di rito per la formazione del nuovo governo e il giorno successivo ha fidato a Enrico Letta l'incarico di formare un governo di unità nazionale, considerato il primo nella storia repubblicana. L'8 giugno 2013 ha effettuato la sua prima visita ufficiale all'estero durante il secondo mandato, recandosi in Vaticano da Papa Francesco. L'8 ottobre dello stesso anno ha inviato un messaggio alle Camere sulla questione carceraria, invitando il Parlamento a considerare l'indulto e l'amnistia. Il 17 febbraio 2014, a seguito delle dimissioni irrevocabili di Enrico Letta, Napolitano ha affidato a Matteo Renzi l'incarico di formare un nuovo governo. Il governo Renzi ha prestato giuramento il 22 febbraio, ottenendo la fiducia sia dal Senato che dalla Camera dei Deputati rispettivamente il 24 e il 25 febbraio. Il 14 gennaio 2015, Napolitano ha presentato le dimissioni dalla carica di Presidente della Repubblica. Queste dimissioni erano state annunciate nel suo messaggio di fine anno del 31 dicembre 2014 e sono state principalmente dovute a ragioni legate all'età avanzata. Alla scadenza naturale del suo secondo mandato, prevista per il 22 aprile 2020, avrebbe avuto quasi 95 anni. Il 14 gennaio 2015, dopo aver lasciato la carica di Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano è tornato al Senato come senatore di diritto e a vita. Il 19 gennaio successivo si è unito al gruppo parlamentare per le autonomie, PSI, MAIE. Il 31 gennaio, durante il quarto scrutinio delle nuove elezioni per il Capo dello Stato, ha ottenuto due voti. Inoltre, il 1 aprile 2015 è stato nominato Presidente onorario dell'Istituto per gli studi di politica internazionale. Nel 2016 ha criticato l'iniziativa a riguardo al referendum abrogativo sulle concessioni petrolifere, definendola inconsistente e pretestuosa, difendendo il diritto all'astensione. Durante lo stesso anno, si è schierato a favore della riforma costituzionale Renzi-Boschi, che è stata successivamente bocciata dal referendum del 4 dicembre. Questo evento ha portato alle dimissioni di Renzi, aprendo la strada al governo Gentiloni. Napolitano ha votato a favore della fiducia al governo Gentiloni il 14 dicembre. Il 26 novembre 2017, in Senato, ha espresso alcune perplessità sulla nuova legge elettorale, il Rosatellum, ma ha comunque votato a favore della stessa e delle fiducia poste dal governo. Il 23 e 24 marzo 2018, in qualità di senatore più anziano, ha svolto le funzioni di presidente provvisorio del Senato della Repubblica. Durante questo periodo, ha presieduto le votazioni che hanno portato all'elezione della senatrice Maria Elisabetta Alberti Casellati come seconda carica dello Stato. Il 24 aprile 2018, a causa di un malore con forti dolori al petto, è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale San Camillo di Roma, dove è stato sottoposto a un intervento alla Orta. L'operazione è stata un successo e il 2 maggio l'ospedale ha comunicato che il senatore era stato trasferito al reparto di degenza della cardiochirurgia, avviando un programma di riabilitazione cardiorespiratoria. Il 22 maggio è stato trasferito in una clinica per continuare il decorso post-operatorio ed è stato infine dimesso il 7 giugno. Dal 7 aprile 2021 è diventato il presidente della Repubblica più longevo, superando il suo predecessore Carlo Azzaglio Ciampi, che è morto nel 2016 all'età di 95 anni e 282 giorni. Il 21 maggio 2022 è stato sottoposto a un intervento all'addome presso l'ospedale Spallanzani di Roma, eseguito dall'equipe del professor Giuseppe Maria E. Torre, specializzato in chirurgia oncologica, epatobiliare e dei trapianti. Di fegato. Il 13 ottobre 2022, all'inizio della XIX legislatura, ha rinunciato al ruolo di presidente provvisorio del Senato della Repubblica, che aveva già ricoperto nel 2018. Queste funzioni sono state quindi assunte da Liliana Segre, che ha presieduto le votazioni che hanno portato all'elezione del senatore Ignazio Larussa come seconda carica dello Stato. Durante i suoi mandati da presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano è stato oggetto di critiche per essere stato ritenuto troppo accomodante nei confronti di Silvio Berlusconi, soprattutto durante i periodi in cui Berlusconi ha ricoperto la carica di presidente del Consiglio, dal 2008 al 2011. In questo contesto, Napolitano è stato attaccato per aver firmato alcune leggi approvate dal Parlamento su proposta del governo, che sono state giudizioni in modo molto critico da parte dell'opposizione. Ecco alcuni momenti chiave di queste critiche. Nel 2008, quando è stato promulgato il Lodo Alfano, Beppe Grillo ha sollevato cinque domande critiche su Napolitano tramite il suo blog. Lo accusava di aver firmato e quindi legittimato una legge ritenuta anticostituzionale, il che ha portato alla richiesta di un pronunciamento da parte della Corte Costituzionale. Il 19 ottobre 2009, la Corte ha effettivamente dichiarato la legge incostituzionale. In risposta a queste critiche, il 21 maggio dello stesso anno, il sito web della Presidenza della Repubblica ha pubblicato un comunicato ufficiale. Inoltre, l'ex presidente Carlo Azzeglio Ciampi ha criticato apertamente la scelta di Napolitano di firmare immediatamente la legge e di utilizzare come motivazione il fatto che avrebbe dovuto comunque firmarla se gli fosse stata rappresentata. Nel 2009, Antonio Di Pietro, allora leader dell'Italia dei Valori, ha criticato Napolitano per aver firmato la legge sul cosiddetto scudo fiscale senza rimandarla alle Camere. Di Pietro ha definito la firma un atto di viltà. L'anno successivo, Di Pietro ha dichiarato che stava valutando la possibilità di chiedere la messa in stato d'accusa di Napolitano. Questo a seguito della firma notturna del decreto legge per la riammissione delle liste escluse in Lazio e Lombardia, poche settimane prima delle elezioni regionali. Nel 2010, quando Napolitano ha promulgato la legge sul legittimo impedimento per il capo del governo e i ministri, i pubblici ministeri di Milano hanno minacciato di sollevare un'eccezione di incostituzionalità. La Corte Costituzionale ha poi dichiarato incostituzionali alcune disposizioni di questa legge con la sentenza numero 23 del 2011. Inoltre, nel gennaio 2014, il Movimento 5 Stelle ha presentato una richiesta di messa in stato d'accusa contro Napolitano per attentato contro la Costituzione. Questo è stato motivato dall'avallo di leggi considerate incostituzionali e dalle vicende legate alla trattativa Stato-mafia. Tuttavia, l'11 febbraio successivo, il Comitato parlamentare è incaricato di decidere in merito a respinto la richiesta, ritenendola manifestamente infondata e votando per l'archiviazione. Un episodio controverso che ha scosso l'operato di Giorgio Napolitano è stato il conflitto d'attribuzione che lui stesso ha sollevato contro la Procura di Palermo. Tutto è cominciato quando le intercettazioni telefoniche di Nicola Mancino, accusato di falsa testimonianza nel processo sulla trattativa Stato-mafia, hanno registrato casualmente conversazioni tra Mancino e il Presidente della Repubblica dell'epoca. Il conflitto d'attribuzione aveva lo scopo di impedire che queste intercettazioni, già giudicate e irrilevanti dai pubblici ministeri di Palermo, venissero distrutte. Ciò era previsto dall'articolo 268 del Codice di Procedura Penale, in seguito a un'udienza speciale in cui gli avvocati delle parti avrebbero potuto ascoltare le conversazioni, con il rischio che ne diffondessero i contenuti. Ai media, questa vicenda ha generato una grande attenzione mediatica e l'opinione pubblica si è divisa tra coloro che appoggiavano la decisione di Napolitano, come Valerio Onida ed Eugenio Scalfari, e chi la criticava aspramente. Quest'ultimo gruppo includeva l'ex Presidente della Corte Costituzionale Gustavo Zagrebelsky e Franco Cordero, quest'ultimo arrivando addirittura a accusare il Presidente della Repubblica di rivendicare privilegi simili a quelli di un monarca assoluto. È da questa polemica che è nato il soprannome di Re Giorgio, con cui Napolitano è stato spesso chiamato dalla stampa anche negli anni successivi. Il conflitto di attribuzione tra il Quirinale e la Procura di Palermo è stato risolto dalla Corte Costituzionale con una famosa sentenza, la numero 1 del 2013, il cui relatore è stato Gaetano Silvestri con Giuseppe Frigo. La consulta, pur riconoscendo che il principio dell'inviolabilità della riservatezza delle comunicazioni del Presidente della Repubblica può venir meno quando comporta il sacrificio di interessi riferibili a principi costituzionali supremi, ha stabilito che il divieto assoluto di ricorso al controllo delle comunicazioni telefoniche, enunciato in rapporto ai reati presidenziali debba estendersi anche ad altre situazioni di reato che coinvolgono il Presidente. La Corte ha anche sottolineato la necessità di proteggere la riservatezza delle conversazioni del Presidente, anche quando vengono intercettate incidentalmente in indagini su reati commessi da terzi. Pertanto, la Corte ha stabilito che il giudice dovrebbe ordinare la distruzione della documentazione delle intercettazioni, ma non necessariamente in un'udienza pubblica dove le parti discutono della rilevanza delle comunicazioni intercettate, ma tramite modalità idonee ad assicurare la segretezza del contenuto delle conversazioni intercettate. La notizia per il momento è solo per il momento, termina qui. Se non l'avete ancora fatto questo è il momento giusto per iscriversi al canale, attivate anche la campanellina delle notifiche per essere sempre aggiornati e non perdervi neanche un video, seguiteci anche sugli altri canali e sui social, troverete tutti i link in descrizione, lasciate anche un like e un commento ci aiuterà ad indicizzare meglio il nostro canale, grazie mille del sostegno. A questo punto io vi auguro una splendida giornata, l'appuntamento è sempre per la prossima notizia.